Il scolastico insieme a voi con la cerimonia dell'alza bandiera. Pertanto vi prego durante l'esecuzione del dinno, per chi lo sa, di cantare con noi e di farlo e di stare in silenzio. Adesso do la parola all'amministrazione comunale che vi porge il suo saluto. Ciao ragazzi, buongiorno gli insegnanti e gli eletti scolastici. Vi porto il saluto del sindaco Giovanni Bernocco, che si scusa ma purtroppo oggi non poteva essere presente. E vi dico due parole. È bellissimo vedere tanti ragazzi, soprattutto quelli piccolini che iniziano questa avventura scolastica. hanno davanti cinque anni lunghi e intensi, vedendo poi quelli un po' più grandi, che sono ormai alla fine, sono al quinto anno, quindi aspirano a diventare ancora più grandi e andare alle medie. La cosa importante è che a scuola, oltre a imparare tante cose, la storia, la matematica, la geografia, voi imparate a stare assieme, ad avere rispetto per il vostro compagno, ad avere rispetto per le vostre insegnanti, che con tanti sacrifici vengono qua e vi fanno imparare queste cose importanti. E aver rispetto anche per tutte le altre persone che lavorano all'interno della scuola. Imparate a stare assieme, a comunicare, a parlarvi. E queste cose poi le dovete portare anche a casa, fuori, quando passeggiate per il paese, quando fate lo sport. La scuola non è solo un insegnamento di cultura, ma un insegnamento di vita. Io quando avevo la vostra età, andare a scuola era un po' diverso. Gli insegnanti che sono qua se lo ricorderanno. Era un po' meno divertente e un po' più duro. Però è sempre stato bello anche quello. Quindi vi auguro un buonissimo anno scolastico e un buon lavoro anche a tutto il corpo docente. Grazie. A questo momento faremo l'alza bandiera. Vi prego di adottare quello che vi ho detto prima. Alpini? A posto. Alpini? Attenti. Alza bandiera. 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 Alza bandiera.